Buongiorno, desidero invitarvi ad andare a Torino il 14 e 15 ottobre per partecipare al convegno le giornate professionali della danza. Il sottotitolo è per una piattaforma della danza in Italia, ipotesi e modelli a confronto. Questo convegno si svolge nell'ambito di il Torino Danza Festival 2011. È un'occasione davvero speciale perché, come dice Francesca Bernabini, è la prima volta che il MIBAC, cioè il Ministero, collabora a un convegno sulla danza, la collaborazione appunto tra il Ministero e Feder Danza Agis. L'obiettivo è ambizioso ed è quello di delineare le nuove linee per gli operatori del settore e di creare un modello nuovo per un'importante piattaforma per la danza italiana. È inoltre importante perché questo convegno sarà aperto al pubblico, il che significa che il MIBAC desidera fare insieme agli operatori, ma anche farlo in modo trasparente e democratico. È per questo motivo che ci teniamo, che siate numerosi. Si parlerà ovviamente di mercato della produzione italiana, quindi di come la futura piattaforma deve avere come obiettivo la promozione di tutta la danza italiana. Si parlerà di quali mercati, per quali prodotti. Questi argomenti saranno sviluppati soprattutto nel pomeriggio di venerdì. Qui sotto su Studio 28, sotto al video, troverete tutto il programma del convegno, però in sintesi diciamo che venerdì mattina, dopo i saluti istituzionali, parleranno gli operatori italiani e diranno quali sarebbe per loro la piattaforma più funzionale alle loro esigenze. Nel pomeriggio invece ascolteremo gli esperimenti della produzione e si affronterà la situazione di tutti i tipi di produzione, con Patrizia Salvatori, Valentina Marini e Danila Blasi. Sapremo che cosa si aspettano le compagnie italiane e soprattutto compagnie molto diverse per tipologia. Sabato poi ci saranno gli operatori stranieri, quindi ascolteremo come sono le piattaforme nei loro paesi, però anche cercheremo di interloquire con loro per dare risposta ad alcune nostre esigenze. Una fra tutte, quali saranno i criteri di selezione per la piattaforma. Allora, le conclusioni del convegno saranno di Donatella Ferrante, responsabile della promozione internazionale della Direzione Generale per lo Spettacolo, Mibac, e di Francesca Bernabini, presidente di Federdanza. Speriamo di vedervi allora a Torino il 14. Arrivederci.